Sentenza shock da parte della Corte Costituzionale che ha stabilito che non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per coloro che sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative. Una sentenza che è destinata a far discutere e che ha già registrato la dura reazione del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per il quale la decisione dei giudici della consulta ha qualcosa di incredibile e scandaloso. Sulla stessa linea anche il deputato Lombardo Nicola Molteni. Interviene l'ennesima sentenza, vergognosa, scandalosa e indicente dalla Corte Costituzionale che sostanzialmente entra a gamba tesa rispetto ad una norma inserita nel pacchetto sicurezza voluto dall'allora Ministro Roberto Maroni. Nella norma che cosa si prevedeva? Si prevedeva l'obbligatorietà del carcere per misure e per provvedimenti e per reati di particolare allarme sociale, soprattutto i reati di sfondo sessuale. Chi commetteva reati di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, violenza su minori scattava come misura cautelare l'obbligatorietà del carcere. Già in passato la Corte Costituzionale è intervenuta a gamba tesa togliendo l'obbligatorietà del carcere per reati come la violenza sessuale o come l'omicidio. Ed è ieri l'ennesima vergognosa sentenza in cui la Corte Costituzionale, ribaltando la volontà del Parlamento, ribaltando la volontà dei cittadini che vogliono pene certe e sicure, soprattutto nei confronti di stupratori e di coloro i quali commettono reati gravi nei confronti delle donne e dei minori, la Corte Costituzionale cancella l'obbligatorietà del carcere. Io credo che questa sia una battaglia di civiltà, sia una battaglia di giustizia, sia una battaglia a difesa e tutela delle vittime e dei reati. La Lega denuncia questo ulteriore e ennesimo intervento della Corte Costituzionale. La Corte si sta sostituendo al Parlamento, la Corte si sta sostituendo vergognosamente alla volontà del popolo. Noi non possiamo accettarlo.